Giai a tutti ragazzi sono Cry, oggi sono qui con voi proprio per questo video, allora rilascio l'ospezione della Cammy Live, che è Cammy Live per l'appunto, e dentro la fa parte della serie Cry N'Action, e lasciate un like, commento, riscrivetevi anche gratis, e ditemi se ne entro i ragazzi, è bella D'alleato Ok, spero un po' così Allora ragazzi, ti consiglio Dico, in C che Molto più favorevole rispetto ad A, secondo me Tipo, è buon presto a poter stare qui, secondo me Allora, vedete, ho detto i 3-Sport Vabbè, brutale che si fa Brutale che si fa i 3-Multi Sì Sono caduto, perfetto Ragazzi, è vero che sicuro lo voglio prendere, sicuro, subito C'è un credo, anche, ok Ah, è del brutal, di una sciotta, di una sciotta Guarda, giusto Guarda, giusto? Sì, sì Allora, stessa, io ne ho 7 Quindi è un peccato Ok, andiamo un po' di concentrarci Chiuditi bene, facciamoci Instagram Allora, non è un problema Allora, non è un problema Allora, ho preso il T Ci sono due, quindi è da dietro Devo stare qui, qua, qui Ok Vado a sponare qui, in centro Ah, è andato in base Stati a poco, speciali Stati a poco, speciali Adesso si può sponare qui Perché? Sponare Dico, inserito questo spot qui Che sponeranno sia lì E sia lì e lì Quindi, è un po' il suo spot Siamo stralati Tipo, non invadere tanto Diciamo, no, pure la bombiamo Il sesto Eh, dove il sesto? Ah, c'è un solo nemico Cioè, perfetto Potete invitare i genti Lo prendo io, lo prendo io Mamma Mi è stato tipo A 12 Ok Allora, difendete Attento che il short è forte Allora, la unione Senta silenzia due No, la unione La unione La unione La unione Ah, la unione Oh, fai Lascia la domanda un po' Allora, la unione Ah, la unione Allora, fai Poi C'era unione Che questo Ma Allora, la unione Che cosa Che cosa Che cosa Che Ok siamo tutti voi già a 15 Allora rega vi dico è una cosa molto importante che dovete trovare il sesto giocatore perché noi non lo troviamo male non so perché c'è sempre i gruppi dei 5 perché guardate poi vendeci poi direi che vede quella dell'ascensore aspettalo è da qui ok uccidiamo sta un altro ascensore oh rega tappatemi perché se l'inserere posso staccare l'altro ascensore ora rega vi lascio l'altro ascensore ok bravo ragai no ok ho prendito questa qua ok ok ora credivo ho uno o due perché ho fatto gli assist non mi è un po' non è un po' si aspetta mega ma aspetta mega Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti